Ma l'argomento di questa serata è interessante e cercando di sintetizzare quanto è stato detto fino ad ora, io penso che mai come in questa fase politica, locale, globale e viceversa. Mi spiego, se noi guardiamo a quella che è la peculiare situazione, che è una situazione peculiare dei media in Italia, noi notiamo l'esistenza di una patologia che la stessa Unione Europea denuncia. Diversamente dalle altre nazioni europee, noi non abbiamo in Italia degli editori puri, cioè degli editori che fanno della informazione il cuore di quella che è la loro attività produttiva. Noi abbiamo in Italia una situazione per cui l'attuale Presidente del Consiglio, che da vent'anni ci portiamo dietro, possiede tre televisioni nazionali, una cosa di fronte alla quale nella stessa conservatrice Inghilterra si crederebbe vendetta al cielo, cioè una situazione totalmente fuori controllo. Anche negli Stati Uniti, patria del liberismo, soprattutto di questo neoliberismo particolarmente vorace, particolarmente cattivo, una situazione del genere non potrebbe esistere. Noi abbiamo invece in Italia questa situazione patologica. Dal punto di vista dell'informazione televisiva che certifica l'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica, che ha fatto una interessantissima indagine su come le famiglie italiane hanno percepito la crisi, ebbene l'ISTAT ha osservato come Internet, che è un modo col quale i giovani si informano, le nuove generazioni si informano, raggiunge il 7%, stampa e radio raggiungono assieme il 7%, la televisione ha il restante 84%, il 2% non rispondeva alla domanda. e questo può far capire come si può indirizzare l'opinione pubblica. Nel momento in cui tu controlli le televisioni hai tre televisioni di proprietà e, essendo Presidente anche del Consiglio perché ti è stata data la possibilità di essere anche uomo politico, oltre che ticon delle televisioni, ne hai altre due sotto controllo e una terza, tra i tre, che non è sotto controllo ma subisce la mordacchia. Questo per quanto riguarda la televisione, e questo è altrettanto importante degli editori puri, per quanto riguarda quello che è ancora uno spazio di democrazia, cioè la propria edicola, dove col tuo soldino te puoi comprare il giornale, il quotidiano che più ti rappresenta. È spazio democratico. Pur ritieni che il giornale La Nazione sia il tuo giornale preferito, tu col tuo soldino compri La Nazione. Tu ritieni che il giornale di Casa Berlusconi sia il tuo quotidiano di riferimento, tu puoi democraticamente con il tuo soldino comprare il giornale. E a tempo stesso tu puoi comprare dal Manifesto, a Liberazione, al Secolo, alla Padania. Cioè è ancora, esiste ancora uno spazio democratico nella carta stampata. Il piccolo ma non trascurabile problema di questo paese è che mentre in Germania si preoccupano, si subiscono una riduzione del 2% nelle vendite dell'editoria, della carta stampata. Un 2% che loro ritengono vada a vantaggio di Internet perché le giovani generazioni oramai si informano anche in modo digitale, piuttosto che in modo cartaceo, in modo tra virgolette analogico, ma vendono 25 milioni di copie quotidianamente. Noi in Italia da 30 anni continuiamo a vendere dai 6, nella migliore delle ipotesi, alle 5 milioni e mezzo di copie. Cioè vendiamo il 20%, in Italia con 60 milioni di abitanti, di quanto vende la Germania che ha sì 100 milioni di abitanti, ma vende 25 milioni di copie quotidiane. Questo per chi si interessa di media, per chi si interessa anche del rapporto che c'è tra la diffusione dell'informazione e il livello di civiltà di un paese, segnala che purtroppo noi italiani siamo in piena zona di retrocessione in Europa, così come lo eravamo 30 anni fa, quando ero giovane studente a scienze politiche e la percentuale era la stessa. Abbiamo continuato a vendere poco, quindi il nostro, il popolo italiano che pure ha caratteristiche di inventiva, caratteristiche anche di genialità e anche caratteristiche di capacità di rimboccarsi le maniche, tanto da essere entrato nell'Europa dei banchieri, nell'Europa di Maastricht, quando nessuno ci credeva nel 97, eppure ci siamo entrati, tutto sommato lasciando a bocca aperta Germania, Francia, gli altri paesi del Benelux, cioè l'asse portante, non siamo in grado di rinunciare a un caffè per acquistare il nostro quotidiano preferito, qualsiasi esso sia, perché democrazia vuol dire anche accettare che il tuo vicino acquisti un giornale che te non acquisteresti mai.